Gabriella, proprio oggi che ho un casino di lavoro. Un noto avvocato per niente soddisfatto della sua professione. Sì? Avvocato, c'è un tale che chiede di essere ricevuto. Rosario Cannavò. Per la vergogna si è tolta la vita. Prima di andare a letto non dimenticare di lavare piatti e pulire a terra. Una ragazza vittima del compagno violento. Una vedova senza figli. Buongiorno avvocato, sempre di fretta, vero? Vado a Messina per un'udienza e la riscafola non aspetta. Buongiorno signorina, posso ospitarti io in una delle mie due dimone? Un destino comune ti fa incontrare. Al Calini, c'è un morto in ogni casa. Sopra passano i tre. L'unica mia passione era fare l'artista, l'artista di strada. Oh, grazie. Che odore fanno. Di plastica e di immondizia. Sono sconvolta per quello che mi hai raccontato. In Ugo e Lea. In Ugo. Grazie a tutti.